Sono due le indagini della procura di Foggia, della squadra mobile della Digos e del Servizio Centrale Operativo che hanno emesso una misura cautelare agli arresti domiciliari per il sindaco dimissionario Franco Landella, per i consiglieri comunali Antonio Capotosto e Dario Iacovangelo e per un imprenditore Paolo Tonti, accusati a vario titolo di corruzione. Nell'inchiesta è coinvolta anche la moglie di Landella, Daniela Di Donna, che ha ottenuto la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio. Al centro di queste ipotesi accusatorie è il pagamento di una tangente di almeno 32 mila euro affinché la società di Tonti avesse il rinnovo di una proroga urbanistica. In questo filone è coinvolto anche Leonardo Iaccarino, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Foggia, già arrestato il 30 aprile scorso con le accuse di corruzione e tentate induzione in debito e peculato. Con Iaccarino andato in carcere e poi i domiciliari, aveva ottenuto i domiciliari, lo ricordiamo anche Antonio Capotosto. Ad accusare ora il sindaco Landella, Iaccarino, Capotosto e Iacovangelo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Iaccarino, ma anche alcuni colloqui che lo stesso Iaccarino avrebbe avuto con altri esponenti politici locali, non sapendo di essere ascoltato. Altre intercettazioni tra Iaccarino, Capotosto e Iacovangelo. Inoltre poi ci sarebbe un incontro, monitorato dagli investigatori, tra il sindaco e il Tonti il 15 agosto del 2020, nel giorno in cui divenne esecutiva la delibera di proroga a cui era interessato l'imprenditore. Monitorato anche un altro incontro nel corso del quale sarebbe stata distribuita la tangente. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la tangente sarebbe stata presa interamente dal sindaco Landella e poi distribuita in due tranche ad alcuni consiglieri comunali. Nell'inchiesta, lo ricordiamo, sono coinvolte anche altre persone, oltre a quelle destinatari dell'ordinanza. Il sindaco di Missionario, inoltre accusato anche di tentata concussione per aver chiesto il pagamento di una tangente di 500 mila euro, poi scesa a 300 mila euro, ad un imprenditore che era interessato a subentrare nel project financing dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione nella città di Foggia, un appalto da 53 milioni di euro. Le fonti di prova, spiegate il procuratore capo di Foggia, Ludovico Vaccaro, sono tante. Le dichiarazioni della persona offesa, la registrazione di un colloquio con il sindaco in cui quest'ultimo fa capire, con espressioni colorite, che può mandare tutto all'area. Ci sarebbe anche un colloquio registrato tra l'imprenditore Iaccarino, acquisito nella prima inchiesta in cui è stato coinvolto l'ex presidente del Consiglio. Ci sono infine le dichiarazioni rese dallo stesso Iaccarino.